Non lo so ragazzi, io penso di aver terminato con l'espansione del 25esimo anniversario di Pokémon Avevo già trovato i tre starter, cioè io volevo solamente quelli, in realtà Buone carte, ma qualche giorno fa ho rivisto le mie collezioni e mi sono detto Ma perché non provo a completare il Master Set? Tanto sono solamente 50 carte e non me ne mancano tante Gli più difficili da trovare, li ho trovate A parte il New Gold Shiny Ma riuscirò con la... non lo so Come cazzo ti chiami? Riuscirò col bauletto del 25esimo a trovare questo New Gold Shiny Che tra l'altro sono anche tre fantastiche promozionali che mi ero perso In realtà mi sono anche perso altre collezioni del 25esimo Che so se ogni giorno le recupero Beh, gustiamo Ed eccoci qua, questa la togliamo Tanto sappiamo già cosa abbiamo all'interno di questa collezione E devo dire ragazzi veramente tanta roba bellissima Ed è un sacco di tempo Che non apro una cosa del genere Guardate qua, ovviamente all'incontrario Ma non posso più da un'altra parte Perché mi va a distruggere tutta la roba Togliamo le promozionali Tanto voi sapete già cosa c'è all'interno Carta codice che vi regalo Così almeno posso buttarla via Vabbè, sapete già cosa si trova all'interno di questa collezione Non c'è bisogno che lo faccio proprio vedere Abbiamo, beh, adesivi del 25esimo Tanta roba Altri adesivi con la cosa di Pikachu del 25esimo All'incontrario ovviamente Altri adesivi del 25esimo E poi questo bellissimo Beh, questo sì che è bello E poi, beh, un mini portacarte Che non utilizzo E poi ragazzi queste tre fantastiche promozionali Cioè guardate qua che figata Sono fantastico Ora andiamo a vedere una per una Abbiamo prodotto la moneta enorme del 25esimo Tutta sbrillucicosa Un po' No, da non ci credo Un po' Un tanto rovinata qui E poi Le tre promozionali Cioè guardate qua Light Toxic City Con la grafica vecchia di Pokémon Go Questo c'è entra Pokémon Go Con la grafica vecchia Abbiamo Hydragons Hydragons Cilibello 61 SP Pokémon Di Iris Campionessa Non mette a fuoco E poi abbiamo Mimikyu Specie Delta Tanta roba Io quando Quando ero piccolo Pensavo che le specie Delta Erano carte fake Perfetto Possiamo mettere qui Le tre promozionali Si vedono bene? Beh, anche se non si vedono Che si frega Abbiamo due Fragori ribelli Oddio Sto per sbrattare nella tutina E poi Sei pacchetti Di Gran Festa Questi Li andiamo ad aprire dopo Direi molto velocemente Di non perdere tempo E aprire subito Fragori ribelle Che se non sbaglio Quello interno Si può trovare il Charter Ma non credo Che avrò Tutto questo culo Ok Cattacodice per voi Anche se Fragori ribelle Facciamo una roba veloce Con questa espansione Tatatata Queste di sabbia Volpe Palla Shinx Yamask L'Ectabuzz E un caccio Da fare il trick Sì noi lo facciamo perché siamo veri Collezionisti Qui non c'è un caccio Doppia spalla Energia Verso Luna Chargybug Total Cesso Toxel Candela Ludat Clefairy Coso E spazzatura enorme Bene Visto i soldati da palle Le carte che non ci interessavano Andiamo Con Gran Feste Eh da un po' che non li apro Questi pacchetti Mi sembrano Vuoti Però mi ricordo Che all'interno Ci sono solamente Quattro Carte Quindi Codice per voi Allora Cosmoen Reshiram Abbiamo Ok Palchia E dietro Mio Prima pacchetta Iniziamo subito così Eh Iniziamo un po' male Carte doppie Tutte quanti Ovviamente Che poi le prime 25 Ce le ho quasi tutte Tranne una Se non sbaglio Ma non so quali ho Cioè quali mi manca in realtà Le altre invece Cioè sto ovviamente A aprire pacchetta così Le altre invece Non ne sono sicuro Le altre me ne mancano un botto Ok Qua c'è qualcosa Carta codice per voi Groudon Oh oh Dai Ok Lugia E E E E Pikachu Volo Che già c'ho E questo spacchettamento Stanno molto veloce Veramente sto aprendo le bustine In questa maniera Ma stiamo scherzando È un po' un disonore Per me Allora Codice per voi Abbiamo Chiogre Groudon Dai 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 Niente Oh no Ma Venusaur E dietro abbiamo Un Pikachu Ma stai scherzando Ma no Dai che cavolo Va bene Venusaur del 25esimo Ce l'ho doppio adesso Non so anche Blastoise The Charizard Come l'ultima collezione che ho aperto Visto che gli ho tolto Praticamente tutti quanti lì Allora Codice che vi regalo Zekrom Cosmo Ok Raga ma è una presa per il Doppio Venusaur Io che cazzo me ne devo fare I due Venusaur Del 25esimo Non sto dammi New Gold Non due Venusaur Ma porca di quella Cioè dammi un altro Charizard No Venusaur Cioè non so A sto punto Fammi ritrovare un altro Facciamo la tripletta Energia Eh sì Ce l'ho con sta energia Codice per voi Oh mi sa che manca Xerneas Abbia Oh sì Questa mi mancava Zaptoz Del Team Rocket E dietro abbiamo Un mio Perfetto Questa mi mancava Non scivolare però E non scivolare Ultimo pacchetto Vediamo un po' Non lo so Non avevo tutta questa Gran Cosa Per questa collezione Però Visto che mi mancava Ad aprire Volevo aprirlo Tanto per vedere Cosa trovavo Ma non mi sarei mai immaginato Di trovare Due Venusaur Cosmog Ok Xerneas Tata tata Di alga E in fie di botto Zamazenta V Ok Anche questa mi mancava Vabbè ragazzi Ho preso questa collezione Per trovare un po' Lo sfizio Devo dire Pul niente male Due Venusaur Va bene Ok E poi vabbè Anche le promozionali Sono molto carine Niente ragazzi Spero che questo Spacchettamento Vi sia piaciuto A me A me non tanto Cioè due Due Venusaur Cioè due Venusaur Perché Ma perché due Venusaur Perché Va bene Vediamo se prima o poi Riuscirò a completare Il Master 7 Beh ragazzi Iscrivetevi su questi commenti Se anche voi avete aperta Cosa avete trovato E niente Noi ci vediamo I prossimi giorni Che non possi più Guarda vostra Spadrime di tutto E bella Ciao Due Venusaur Stiamo scherzando Flashe is fast Flashe is cool Francois Zappar Flash ain't no dude And you don't stop Shusha Go out To The parking lot And you get in your car And you drive real far And you drive real far And you drive real far